Ciao 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 a tutti, dunque questo è un brevissimo video in cui voglio dire un po' dei miei progetti per il futuro perché dunque fra una settimana vado in vacanza, vacanza tra virgolette, vado poi a trovare mia madre perché come sapete non è stata bene e poi andrò a trovare i miei cugini perché ho la famiglia divisa a metà tra il Piemonte e invece il Veneto quindi andremo a vedere i cugini venditi. Bene, per il resto devo dire che sto per finire un corso veramente difficile di tedesco dove facciamo anche letteratura, quindi sarà molto interessante vedere cosa ci sarà dopo perché poi all'inizio di luglio iniziano i nuovi corsi e devo andare avanti e vediamo un po' cosa succederà. E quindi niente, a luglio tornerò e vi farò sapere cosa ci sarà dopo. Un bacione a tutti e statemi bene.